Ovviamente ancora non abbiamo fatto nemmeno un'uscita anche con la solita amichevole che si fa estiva come si suol dire nei ritiri contro i boscaioli per oleare e comunque creare quella sintonia tra i reparti, tra i compagni e tutto quanto. E' ovvio che questa difficoltà è una difficoltà che è nata con noi e che noi stiamo cercando di colmare questo gap strada facendo. Infatti la nostra preparazione non è stata programmata a lungo termine ma ci siamo basati su quello che man mano arrivava e di giorno in giorno abbiamo verificato su cosa lavorare e come soprattutto lavorare. E' ovvio che questa è una difficoltà che si presenta però siamo pronti anche a cercare attraverso, purtroppo è difficile dirlo ma la realtà è questa, attraverso le partite di Coppa trovare quello che sarebbe stato fatto prima antecedentemente alle prime partite ufficiali. E di conseguenza anche io sono curioso onestamente per andare a vedere, a capire di che pasta siamo fatti, i giocatori che sono arrivati in allenamento comunque ti danno delle impressioni però la partita è sempre la partita. E quindi di conseguenza domani sera avremo questo banco di prova per capire se quei ragazzi che abbiamo valutato e quei ragazzi che abbiamo tesserato possono fare a caso nostro e quindi di conseguenza creare un percorso attraverso la formazione di questo gruppo. Guarda quanti meno aspetto è difficile quantificarlo perché obiettivamente numericamente al momento siamo se non erro 15, 14, tre serati tra grandi poi ci sono i ragazzi che sono con noi della Beretti che faranno parte di questo gruppo soprattutto in questa fase e che sicuramente ci potranno dire e dare una mano. Sia per una questione come hai ben detto temperature calde, abbiamo fatto 20 allenamenti in 10 giorni quindi già è un numero però ovviamente qualcuno è arrivato anche ieri o l'altro ieri e di conseguenza la gestione iniziale sarà fatta soprattutto per cercare di non far fare male gente. Io voglio che arriviamo poi al 25 che stiamo tutti bene quindi perdere un giocatore adesso non mi interessa per fargli fare mezzo tempo 70 minuti preferisco fare una gestione oculata soprattutto per chi muscolarmente a queste partite non è pronto. E col caldo sicuramente influirà tantissimo la gestione però allo stesso tempo dico abbiamo anche 5 cambi e possiamo far rifiatare qualcuno nel caso in cui ce ne fosse ce ne accorgiamo che c'è la necessità primaria di sostituirlo perché non voglio andare a spingere troppo i tempi perché poi tiri tiri la corda si spezza e perdere un giocatore per noi diventa fondamentale dopo. Voi siete molto più bravi in questo di me perché comunque il delineamento l'avete già fatto e non è difficile fondamentalmente i giocatori sono quelli normale Morero di Polantonio Parisi questi scenderanno sicuramente all'inizio e ci sarà qualcun altro che sarà utilizzato part time proprio appositamente perché c'è un discorso fisico da tenere sotto stretta osservazione. Io penso che il cantiere come per noi come anche per altre squadre in queste categorie si chiuderà il 31 agosto quando finirà la sessione di mercato c'è 2 settembre rinviato quindi abbiamo due giorni di tempo in più per valutare tutte le situazioni che si presenteranno per il bene dell'Avellino e quindi anche nella scelta il direttore dei giocatori che dovranno essere utili a questa squadra. E di conseguenza noi lavoriamo per rendere al meglio questo cantiere e poi se c'è bisogno della ciliegina oppure numericamente sicuramente non siamo ancora al completo. Questo è fuori discussione e sotto gli occhi di tutti numericamente servirebbero ancora 4-5 elementi per essere più completi. Alla Rechi sono andato due volte Marco sono andato a vedere il Catanzaro e sono andato a vedere il Bari e la Regina al torneo con la Salernitana, il triangolare. Perché comunque sono delle squadre che ci interessano da vicino e di conseguenza sapere qualche notizia è sempre utile anche per capire la qualità degli altri e farsene poi un'idea di quello che deve arrivare qua o comunque di quello che dobbiamo creare per essere competitivi e non sfigurare in questo campionato. Calaio è una suggestione, ma Calaio guadagna 400-500 mila euro. Quindi al di là, certo gli attaccanti forti io li vorrei tutti. Se ci fosse la possibilità di prendere Ibrahimovic o gente di questo calibro lo prenderei volentieri. Perché poi alla fine sono quei giocatori che ti spostano gli equilibri di una partita. Perché se c'è i uomini gol ovviamente è molto più facile fare una gestione di una partita partendo da 1-2 a 0 per te. Perché sai che quelli prima o poi la palla dentro te la buttano. Però penso che rimanga una suggestione. Siamo amici, abbiamo un rapporto fraterno perché tra l'altro lui è pure palermitano. Abbiamo fatto vacanze insieme, abbiamo giocato insieme. Ma non credo ci siano i margini che possa arrivare qua a Calaio. La pazienza la dovete avere più la gente che voi. Perché voi giustamente è giusto che fate questo lavoro e dovete scrivere quello che vedete ovviamente. E mi auguro anche che da parte vostra ci sia una penna sempre che vada incontro a quelle che sono tutte le situazioni che stiamo attraversando in questo momento e che favorisca appunto quello che è la pazienza della gente. Perché sappiamo benissimo che la gente che non viene allo stadio legge, ascolta. Poi magari se sono arrivati dei messaggi sbagliati viene anche un po' prevenuta. Questo fa parte del gioco, lo sappiamo. Quindi di conseguenza anche voi che siete una componente importante per l'Avellino Calcio, molto importante e ovviamente avete anche i vostri interessi come li abbiamo noi a fare altre categorie, è importante che voi dite le cose come stanno e poi la gente fa le sue valutazioni. La pazienza sappiamo tanti e tutti quanti anzi che è sempre pilotata dai risultati. Noi per quanto concerne l'aspetto squadra dobbiamo cercare di fare il massimo in campo e trarre il massimo soprattutto nel primo mese e mezzo o due sotto aspetto di prestazioni e quindi anche dei risultati. Se ci sono dei risultati che ci accompagnano tutto questo faciliterà un po' l'avvicinamento anche della gente a questa squadra affinché venga e rinasca un po' l'amore che io ricordo per questa squadra. Ma guarda, io ho detto benissimo e sono stato chiaro penso che in questo momento per me è un test importante per capire di che pasta siamo fatti. I tre punti sono importanti per quello che potrebbe essere creare già da subito determinati entusiasmi attorno alla squadra però fondamentalmente non è l'aspetto primario che riguarda domani. Domani voglio vedere che i ragazzi abbiano capito che c'è bisogno a Avellino di una certa mentalità, una mentalità vincente. Io per mentalità vincente intendo che noi dobbiamo fare tutto quello che c'è da fare per vincere. Poi il risultato è una conseguenza frutto anche di tanti episodi e tante situazioni. Se loro già mi fanno vedere che questo aspetto è dentro loro, siamo un passo avanti e siamo sulla strada giusta. Io devo dire la verità, ho accettato a scatola chiusa sì, però per me la società e le scelte che ha fatto la società già sono una veranzia. Quindi di conseguenza mi aspetto che il direttore, che comunque ci consultiamo costantemente, insieme a noi cerca di fare il massimo e quindi di metterci nelle condizioni tutti quanti, di avere una rosa competitiva, come ho detto prima, per cercare di ben figurare in questo campionato e soprattutto di fare il massimo, il massimo aspettabile. Ovviamente non mi aspetto chissà chi arriverà, però mi aspetto che il direttore, come gli ho chiesto io, mi prenda giocatori che abbiano mentalità e soprattutto che siano uomini, perché qui ce n'è bisogno di quelli che abbiano personalità nell'affrontare la difficoltà. Poi attraverso questi aspetti qua, l'aspetto tecnico e qualitativo dei giocatori farà la differenza e ci farà capire su che step dovremmo andarci a posizionare. Abbiamo provato, abbiamo provato... Che varie giornate comunque? Le notizie che ci arrivano sono queste. È ovvio che l'informazione adesso si sa di tutto e di tutti, quindi di conseguenza. Abbiamo provato a dare delle nozioni di gioco, però è ancora prematuro. Abbiamo tanto da dare, tanto da fare, perché comunque ci sono dei meccanismi calcistici che al di là del modulo vanno continuamente rodati, oleati, provati, riprovati, sbagliati, perché assolutamente attraverso quelle cose là si va verso la ricerca che uno vuole fare al massimo, tra virgolette, della perfezione. Quindi di conseguenza, siccome ancora siamo proprio lontano dall'inizio, mi aspetto che qualcosa di quello che abbiamo inculcato ai ragazzi venga fuori. Stiamo lavorando su questo modulo, quindi comunque prenderemo giocatori che si adattino a questo modulo funzionali, ma soprattutto che siano funzionali a quelli che siano i principi di gioco. Guarda, io devo essere sincero, cercherò di guardare più i miei che la Paganese, perché innanzitutto sono abituato a concentrarmi su quello che dobbiamo fare noi, anche se sapere degli altri è sempre un'informazione importante. Ho visto qualcosa e devo dire che è una squadra difficile da affrontare e l'ha dimostrato a Bari. È una squadra abbastanza tosta, una squadra che sa stare bene in campo, ordinata, però ovviamente poi quando ti vai a confrontare dentro il campo tutto questo, tra virgolette, sfuma perché pensi a fare le cose che servono alla tua squadra. Però sicuramente è una squadra che se l'è giocata bene, se l'è giocata molto bene a Bari, devo dire la verità. Io sono contento di tutti. In questi dieci giorni i ragazzi hanno dimostrato una grossa volontà e una grossa attenzione a quelle che sono le nozioni che gli abbiamo dettate, perché grazie anche a Daniele riusciamo a dividerci parecchi compiti. Magari tante volte mi dedico più io alla difesa, a Daniele al centrocampio e all'attacco. Di conseguenza questo non ci può essere solo che utile per tutto quello che è il proseguo del campionato. I due attaccanti stanno cercando di fare quello che gli chiediamo noi e ce la stanno mettendo tutta, ovviamente. Poi, come ho detto, spesso in un contesto, in un sistema di gioco, quando ti vai a confrontare con gli altri vengono fuori le qualità individuali dei giocatori espressi in quel contesto. Però assolutamente sì, sono contento di quello che stanno facendo e credo che possano fare pure bene. Ma possiamo anche trovare altre collocazioni. È un giocatore molto duttile, ha determinate qualità, a forza, a esplosività, a velocità. Alternative. Tutti qua sono alternativi di tutti. Nel senso, noi valutiamo di settimana in settimana, ovviamente, chi sta meglio e per il bene dell'Avellino cercherò di schierare sempre la migliore formazione. Assolutamente sono d'accordo con te sul fatto di toccare le corde emotive dei giocatori, perché devono capire da subito cos'è questa realtà e la gente cosa si aspetta da noi. Quindi, di conseguenza, situazioni che riguardano l'aspetto cognitivo sono determinanti. L'aspetto tattico è importante, l'hanno seguito e devono farmi vedere se hanno recepito il messaggio. L'aspetto fisico è un punto di domanda e, di conseguenza, ci andremo a confrontare molto dove l'aspetto, come hai detto tu, emotivo, può fare dago della bilancia. Nel senso, il calciatore spesso, anche quando è in una condizione fisica ottimale, viene pilotato spesso, la maggior parte delle volte, da quello che è l'aspetto emotivo. Tante volte è successo a me da giocatore, so quello che può succedere a loro. Nel senso, impatto, prima partita, tensioni di dover dimostrare. Tante situazioni che ti possono coinvolgere emotivamente, però ognuno di loro ha una reazione. C'è chi, all'aspetto emotivo, reagisce positivamente e quindi, di conseguenza, si sente libero di andare e fare. C'è magari qualcuno che potrebbe, invece, accusare il colpo e quindi, di conseguenza, anche questa è una valutazione che dovremo fare. Però, assolutamente importante che loro sappiano che per noi è un test e che da questo test poi si può creare un percorso dove abbiamo sbagliato qua, andiamo avanti, mettiamo una pietra, correggiamo. Per me diventa importante, come vi ho detto prima, capire strutturalmente quello che riusciamo a dare. Poi, pian piano, vediamo. San Tommaso, sì, sono curioso anche di vedere e sarei felice di poter poi assistere alla partita del San Tommaso qui col Palermo. Il consiglio che posso dare è che è un girone tosto per il San Tommaso, è un girone dove ci sono squadre attrezzate e non è solo il Palermo la candidata a vincere in questo girone e che soprattutto loro, da neopromosse, devono cercare di giocarsi anche quel punticino alla morte di partita in partita, perché poi, man mano che si va avanti, si crea un percorso, si acquisiscono anche delle certezze e magari tu riesci ad affrontare le squadre nella maniera migliore.